Abbiamo una data di fine lavori che è stata individuata nel 20 maggio 2025. Sto facendo le dovute pressioni per accelerare i tempi. Maggio 2025 è questa la data di fine cantiere prevista per piazza 40 Martiri a Gubbio. A comunicarla è il sindaco della città Vittorio Fiorucci dopo un incontro svolto sia a Palazzo Pretorio tra l'amministrazione comunale, i dirigenti, i tecnici e le aziende impegnate nell'intervento da 5 milioni di euro con i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel confronto è stato fatto il punto della situazione sullo stato di avanzamento del cantiere che al momento ha visto conclusa l'opera di pavimentazione dell'area a ridosso dei giardini piccoli. I lavori in piazza 40 Martiri stanno progredendo e questa mattina abbiamo fatto un tavolo di confronto con le aziende appaltatrici e comando vigili urbani per modificare la viabilità in funzione dell'inizio dell'altro stralcio di lavori. I lavori in questione saranno quelli nei pressi della Chiesa di San Francesco e del Distretto Sanitario oltre a quelli della zona davanti alle logge che ripartiranno come confermato dall'assessore Spartaco Capannelli il prossimo 26 agosto. Questi ultimi vedranno impegnate due squadre per la messa in posa della pavimentazione. Nel confronto è stata inoltre affrontata la questione della viabilità nella piazza dal momento che malgrado il cantiere sia aperto su più fronti rappresenta uno degli accessi fondamentali per l'acropoli cittadina. L'amministrazione comunale ha preferito evitare la chiusura di via Cavour cercando un percorso alternativo e obbligato nel segmento stradale a ridosso dei giardini che possa consentire sia il prosiego dei lavori sia il transito dei veicoli. Abbiamo individuato un percorso consono per agevolare sia l'ingresso in via Cavour che per facilitare l'accesso in piazza nonostante gli intralci fisiologici che avremo per cui la soluzione è stata individuata e i cittadini la vedranno prossimamente.